buonasera a tutti quanti siamo live sono molto contenta di parlare di pancia piatta oggi perché parlo di pancia piatta perché giustamente le persone possono chiedermi di andare per tema e la tema è stata chiesta da maria angela e detto perché non mi puoi parlare di questa pancia piatta e molte persone hanno un problema della pancia piatta non dico sono magra ma ho la pancetta mi aleno ma la pancetta l'ultima 5 kg 5 chilometri a 5 kg sempre sulla pancetta e che cosa causa la pancetta gonfia ok andiamo sempre per gradi ciao grazie ciao a tutti quanti sono molto contenti di vedervi ricordate che su gil cooper punto it live shopping c'è l'interattività l'interattività dove potete cliccare sullo schermo vedere e vedere i prodotti immediatamente dove potete mandarmi le domande e avere le vostre domande memorizzate risposto in tempo reale e diciamo anche rivisibili ok posso ritornare in secondo momento vedo un vecchio live qualsiasi tema che mi ispira e vedo le domande di quel live che posso andare a poi proprio cliccare toccare vedere ok la pancia piatta non esiste secondo me quasi in qualsiasi cosa non esiste una singola risposta a qualsiasi domanda che possiamo fare su metabolismo o rughe o densità ossea o muscoli o allenamento o la pancia piatta perché tu si senti sentirai qualsiasi sportivo qualsiasi personal trainer qualsiasi super super sportivo o no abdominali si fanno a tavola si fanno a tavola è vero è vero l'ultima cosa risplende su un corpo allenato sono gli abdominali e la prima cosa che si appanna o si sparisce quando comincia a mangiare male è la pancia ok ma quello è per una super sportivo quello è per uno che vuole essere una statua quella che è una persona che è talmente devoto al suo allenamento sembra una macchina adesso andiamo a parlare della gente normale però perché non è solo la tavola non c'è dieta che tenga che ti darà la six pack tranne se c'è una conformazione fisiologico di genetica ok così ci sono delle io ho visto anche le donne che hanno le saponette geneticamente proprio in preimpostato stanno là non si devono allenare l'abdome e poi ci sono anche altre che hanno il gluteo perfetto la donna che non si allena tanto ma c'ha il gluteo perfetto quella è una questione questione di conformazione fisiologica ma è l'eccezione non è la regola quando andiamo a parlare della pancia piatta noi dobbiamo vedere diversi fattori allenamento inciderà anche se stasera non parlerò tanto di allenamento ciao angela ciao paola ciao tutti quanti questa è bella questa è bella io adesso la metto in in angela mi dice ciao gilda la tua fedelissimo angela da padova che bella vengo la tua bella padova prossima settimana poi ve lo dico perché non oggi non te lo dico non ve lo svelo ancora però c'è una novità vero ogni tanto a padova per lavorare magari chissà un giorno prenderemo un caffè insieme detto questo torniamo sulla pancia allora la pancia ovviamente è una dieta pulita questo è molto importante una dieta sana ma l'allenamento deve essere ok se vogliamo avere gli abdominali fare gli esercizi dedicati all'abdominali ti aiuteranno avere più abdominali ma la verità che quando vediamo la pancetta ok quella pancetta può essere legato al ciclo ok gli ormoni ritenzioni idrica possiamo avere ritenzioni idrica cosa sarebbe ottimo anche aiutarci con ritenzioni idrica ma spesso volentieri lo stress lo stress fa ingrossare la pancia talmente importante questo fatto dello stress che i cardiologi misurano la circolorezza del giro vita per vedere il tuo futuro diciamo rischio cardiovascolare perché legato allo stress cortisolo stress adipe sulla pancia acqua sulla pancia e così che cosa possiamo fare per ridurre questa pancia gonfia salute delle microbioma disintossicare il corpo migliorare qualità del sonno ridurre stress nell'organismo infiammazione nell'organismo allenamento nutrizione e sonno ok ok cominciamo a vederlo cominciamo a a a tirare fuori un po di di soluzione mela slim perché dico mela slim allora faccio vedere queste foto ciao paola ciao angela allora mela slim guardate la pancia qui notevolmente ridotto che cos'è mela slim mela slim l'ho messo già la prodotto in evidenza mela slim è un integratore a base a base di mele la parte della mele che ci interessa la florenzina titolato 50 per cento quando io dico 50 per cento vuol dire la la parte attiva della pianta è titolata 50 per cento che vuol dire bello concentrato la florenzina è una un prodotto molto interessante perché aiuta a limitare e modulare l'assorbimento di zucchero a livello intestinale ok andiamo per gradi come funzione hanno fatto un studio scientifico sui sui topolini utilizzando la florenzina la florenzen in inglese è scritto con la ph scrivi mais florenzen e vedrete questo questo studio scientifico e la florenzina aiuta a stimolare una proliferazione di un probiotico chiamato a carman sia che è anaerobico io non ti posso dare la lacrimanzia perché morirebbe prima di arrivare alla tua bocca perché in presenza di ossigeno muore ma la posso stimolare la sua proliferazione nelle vostre viscere e questo ti aiuterebbe a fare una sorta di protezione su tutte le pareti viscerali e questo aiuta a limitare e modulare l'arrivo dello zucchero a livello intestinale ti prego di guardare il gonfiore della pancia su queste donne e come sono migliorato ok la pancia eccola la pancetta migliorato perché diamo per logica se io riesco a limitare l'assorbimento di zucchero che ovviamente ci aiuta con il sistema brucia grassi perché avrò meno picchi glicemici che crea troppo insulina e quando abbiamo insulina nel nostro sangue abbiamo non possiamo avere la metabolic switch della glucagone che ci brucia grassi così limitando lo zucchero a livello intestinale ci aiuta a ridurre anche le calorie che stiamo assumendo ma dall'altra parte ci aiuta anche le sentinelle della nostra galt nostra gastro associated lymphatic tissue più o meno 70 per cento del vostro sistema immunitario vive e risiede nelle viscere oggi come oggi siamo talmente stressati abbiamo intestino poroso che vuol dire che non riesce a filtrare o fermare ok delle patogeni che entrano nel nostro flusso sanguigno perché siamo troppo stressati lo stress soffoca le diciamo le tight junctures vuole giunture strette dal nostro nel nostro bilio intestinale sono così solo proteine carboidrati vittimine sali minerali acqua ok deve passare questi bilio intestinale ma quando è poroso perché siamo sempre stressati e sempre agitati e soffocando il microbioma perché portiamo il sangue sempre le mani e i piedi per lottare o fuggire potrebbe essere che soffocato di una bella diciamo flusso sanguigno intorno alle viscere diventa poroso a quel punto passa glutine diciamo lattosio tutto quello che poi infiamma il corpo creando citochine che aumenta la produzione di cortisolo e eccoci qua ergo abbiamo questa pancetta che vediamo molto pronunciato su tante persone stressate quando io lavoro con o lavoravo a detto fatto con sascia sorrentino noi ogni volta che vedevamo una persona molto gonfio sulla pancia dice ma dormi sei stressato prima cosa che chiedevamo e ci sono diversi prodotti che possono aiutare lo stress ma me la slim innanzitutto protegge le pareti del nostro intestino che è molto importante per quanto riguarda il microbioma perché parleremo anche di probiotici parleremo di disintossinare il corpo parleremo di ridurre le stress nell'organismo e tutto questo aiuterà a lungo andare non solo la pancia appiattirsi ti aiuterà avere più sonno un sonno migliore un sonno di qualità migliore però ci aiuterà anche avere più metabolismo perché il cortisolo è inversamente correlato alle tsh che è l'ormone che stimola la nostra tiroide così più sono stressata meno avrò un metabolismo attivo e questo ci dà fastidio allora Anna mi sta dicendo Anna ciao Jill io ho un'ernia sopra l'ombilico e sono allergica a nickel vorrei sapere se posso prendere me la slim grazie non ci devo controllare quanto nickel c'è nelle mele ma di solito non c'è tanto nelle mele e poi ovviamente questo è un estratto della mela che ci aiuta avere la florenzina e non posso dire che è nickel free perché non lo posso dire però dovrebbe come frutto non avere tanto nickel però mi fai passare al prossimo prodotto che sono letteralmente impazzita di questo prodotto che voglio parlarvi adesso delle zeolite chiudo la mele slim e andiamo a parlare zeolite e perché parleremo delle zeolite è un disintossinante forte 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 perché ho tantissimi studio scientifici tanti tanti studio scientifici che parlano del probiotici del curcuma la curcuma che aiuta a disintiamare il corpo ma andiamo per gradi allora prima cosa che prendiamo nostra mele slim aiutiamo la parete delle nostre viscere avere una protezione perché la germansia fa una sorta di spessore tipo gelificante perché di solito la pectina che si usa le mele per la pectina che prende quell'effetto gelificante per le marmellate va a proteggere le parete delle nostre vili intestinali aiutando a limitare e modulando l'entrata di molecole che non vogliamo ma zeolite adesso è una polvere e vorrei anche che voi scriveste in secondo momento non lo farei adesso però riuscite a vederla è una polvere volcanica è un polvere ed è attivata ultrafina attivata con una struttura molecolare che aiuta a depurare profondamente l'organismo se tu scrivi zeolite e radioattività e uno dice che c'entra la usano per aiutare a ridurre la radioattività in metalli pesanti nell'acqua e in altre zone che sono contaminate perché il scambio ionico della zeolite talmente potente ci aiuta a catturare metalli pesanti catturare tossine catturare muffe e spore e tutto quello che sta intassando nostro corpo per portarla via dal vostro corpo nostro zeolite la cosa bella vado a farvi vedere questo contributo così andiamo a capire al meglio che la zeolite queste due mesi di questa di tre cucchiaini al giorno lo sto facendo da più di un mese oh wow concentrazione migliore miei capelli e mie unghie stanno crescendo a anche le ciglie stanno crescendo a un vero simile e non sto usando triconel perché talmente mi stavano crescendo i capelli devo andare al parrucchiere tipo ogni due settimane e dico oh darti una calmata ma sono convinta e la zeolite mi sta aiutando perché la zeolite è una spazzino naturale dell'organismo che ci aiuta a catturare quelle che noi non vogliamo nell'organismo tutte le sostanze nocive facilita promuove il transito intestinale eccoci qua disintossica di acidifica il sangue aumenta la salute a livello cellulare perché quando io sono intasato i filtri non funzionano bene aumentando il benessere dell'organismo ci aiuta a veramente liberarci tutto quello che ci appresentisce la mente migliorando il sistema immunitario aiuta a diciamo anche le vasi sanguigne aiuta anche l'acidificazione del sangue e questo è qualcosa di palpabile perché quando dice sto facendo la dieta desintossicante e cominciate a mangiare soltanto carota e mele per carità sicuramente bene fa perché sono verdure sono frutta ma questo è un vero proprio chellante un chellante una sorta di calamita che prende e prende e cattura dentro il tuo organismo magari i metalli pesanti che l'abbiamo preso mangiando tonno pesci a volte noi possiamo addirittura assorbire i metalli pesanti dalle stoviglie che usiamo e utilizzando la zeolite ogni tanto possiamo fare una bella bella pulizia dell'impurità e ci aiuta il suo micro porosità si chiama frattali e frattali ok frattali talmente poroso con talmente tante facitature con uno scambio ionico così potente aiuta a ridurre tossine residui chimici provenienti da farmaci virus funghi e batteri tossine derivanti da pesticidi perché noi dimentichiamo di dimentichiamo i pesticidi che si mettono addirittura anche i fertilizzanti che mettono sulle frutte e verdure non è che siamo sempre lì a lavarlo a un un punto tale che possiamo vivere senza intasina intasinare non sono intasinare si può dire in italiano non lo so ma che intasa il corpo si si può dire in italiano non lo so ma che 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 non lo so stima sul dottor rossi professore rossi che è una nutrizionista biologo nutrizionista di immenso immenso sapienza veramente una persona e ci può potrei ascoltarlo per ore e vedi dottor rossi parla della zeolite e qui abbiamo zeolite attiva purissimo e fine poi mi dice ecco mi dice ok mi scrive la stessa domanda due volte paola così io direi se noi vogliamo veramente fare un protocollo pancia piatta dobbiamo ridurre body burden dobbiamo ridurre l'infiammazione nel corpo dobbiamo proteggere le pareti intestinali e a questo punto proteggere il sistema immunitario facendo questo comincieremo a ridurre la l'ansia e anche l'allarme nel corpo per poi vivere molto più concentrati allora agisce come calamita che attrae regione anche sostanze nocive quali mentali pesanti mercurio arsenico piombo piombo e nickel ecco per la mia amica dice sono allergica a nickel io mi piombo su zeolite perché ogni tanto anch'io c'ho delle delle periodi dove sono più sensibile a nickel e comincio a avere delle eritene zeolite quelle che mi aiuta a ridurre il body burden c'è anche con polveri sottili con lo smog e ci aiuta i fegato e i reni a depurare meglio e così alleggerisco alleggerendo tutto il corpo di tossine ovviamente il cervello funziona meglio il cuore funziona meglio ci aiuto veramente tutto il corpo a funzionare al meglio e questo fa parte di aiutarci con la pancia piatta su azioni detox sul fegato intestino migliori la digestione lieve e contrasta gastrite e ulcere apporta regolarità al transito intestinale e di acidifica e rimineralizza ok non solo il sangue ma le ossa così rinforza il sistema immunitario contrasta la stanchezza aiuta il supporto diciamo mentale e l'altra cosa è questa con la rimineralizzazione della zeolite ricarica le nostre riserve di calcio magnesio sodio potassio così avremo un aiuto per le ossa un aiuto per drenare un aiuto anche per diciamo gli anestetismi delle cellulite ritorno sulle mie amiche che mi scrive simona mi si simona siete tanti oggi ciao a tutti ciao carissima gile innanzitutto grazie mille per avermi cambiato la vita proprio in tutto grazie a te ti chiedo cortesemente quando sul tuo sito torneranno disponibili le altre taglie della sauna belt quando arriverà in vendita bio ceramica jacket be good meraviglioso i pantalancini e la gonnellina che usi durante gli allenamenti ultima cosa non potresti fare una crema apposito per il seno grazie di cuore la simone noi siamo in incareggiate lavorando più velocemente possibile per per soddisfarvi tutte le vostre richieste sono tanti e la verità è che quando vedete un rallentamento è una questione che siamo diciamo risolvendo con nostri fornitori perché non vado a spiegare perché ma stiamo lavorando per voi allora vedrete le giacche di be good vedrete anche la sauna belt vedrete un sacco di cose dateci tempo perché stiamo lavorando per voi ritorno qui e andiamo avanti con il prossimo ospite di questa puntata è dedicato al sonno allora melissa composta melissa composta è molto molto importante perché la melissa composta è per coloro che non dormono bene io oggi ho postato un video di alessandra che sta facendo yes i can ha parlato di you balance ha parlato di metaboost night ha parlato del prodotto che le ho dato per dormire meglio e lei ha detto da diversi sette diverse settimane sta dormendo profondamente è molto importante dormire bene perché quando noi dormiamo bene aspetta quando dormiamo bene cominciamo a avere switch metabolico per bruciare più grassi di notte riduciamo l'ansia e lo stress nel corpo quando riduciamo l'ansia e stress nel corpo ci aiuta a ridurre ovviamente la pancetta e ci aiuta a rigenerare il collagene questa donna ha dormito bene non ha preso skin renew non ha preso il body renew ha preso un prodotto che l'ha aiutato a dormire meglio e quando dormo meglio il corpo risponde con salute così quando noi ritorniamo che melissa slim aiuta la parete intestinale e questo ci aiuta a ridurre l'infiammazione del corpo e ci aiuta anche limitare lo zucchero che assorbiamo così assumiamo meno calorie ok zeolite zeolite ci aiuta disintossinare il corpo veramente togliendo metalli pesanti tutto quello che può interferire con una buona fisiologia degli organi interni e io vi prego veramente questo è un prodotto che si usano anche quando ci sono incidenti radioattivi per aiutare le persone a togliere le radioattività e scrivetelo su internet lo vedrete che zeolite radioattività metalli pesanti perché essendo fratale e avendo una buona diciamo interscambio ionico riesce a catturare come una calamita questi metalli e queste sostanze e queste sostanze nocivi per portarli fuori del corpo e ti senti meglio e ti senti veramente veramente meglio specialmente se tu sei un tipo allergico un giro due giro di zeolite aiuta dormire ok per tutti coloro che non riescono a dormire bene e ho diversi prodotti o melissa composta ti fa dormire stress block che ti aiuta anche a ridurre l'infiammazione lo stress nell'organismo perché un adatto genico e ti aiuta avere una diversa verba scusami che voglio farvi ascoltare questa testimonianza su stress block perché c'è una ragazza che quando dormi bene non solo che hai più energia per il tuo allenamento famose abdominali che dovete fare ok ti aiuta proprio a svegliare carica per una giornata incredibile scusa ministro eccole qua adesso andiamo a ascoltare questa ragazza che ci parla di come si è ridotto lo stress nell'organismo dormito meglio di conseguenza lei non parla della pancia ma quando noi dormiamo bene riducendo lo stress automaticamente riduciamo troppo cortisolo nell'organismo e la pancia si riduce stress block lo prendo la sera più o meno un'oretta prima di andare a dormire niente sono più rilassata riesco a prendere sono un po prima del solito perché io ci facevo tanta fatica addormentarmi però con lo stress block ho notato che riesco a rilassare un più prima mi addormento e il sonno mi diventa un po più profondo la mattina mi piace poco risvegliarmi però mi sveglio più riposata diciamo e la colazione non mi va di farmela subito proprio non c'ho fame e non ho neanche più ecco ti dirò un'altra cosa io dopo dopo pranzo avevo quella stanchezza proprio che mi sentivo che avevo bisogno di mezz'ora sul divano non lo cerco più non c'ho più la fame nervosa appena svegliate la mattina sono più rilassata anche durante la giornata insomma mi aiuta parecchio a rilassarmi non a dormire a rilassarmi a essere più tranquilla affrontare la giornata più tranquilla ed è un'altra vita ok pancia più piatta ok intorno lì io ti aiuto a ridurre lo stress e la pancia comincia a diminuire allora andiamo a molti di voi mi state chiedendo di leggins su quale sito si può trovare questi leggins questo mio sito si chiama gilcooper.it ve lo faccio vedere gilcooper.it e lo potete ovviamente a trovare tutti i prodotti non solo di queste puntate ma trovate in questo live perché in questo momento io ti sto facendo vedere per esempio melissa composta io ti posso anche far vedere turbo turbo diet power che è un altro integratore di di caffè verde e garsini a cambogia che sono eccellente per la pancia guardate qua questo è caffè verde vedete come la pancia è migliorata questo è caffè verde e garsini a cambogia vedi come la pancia è migliorata caffè verde e easy drain come la pancia è diminuito perché ci sono tanti liquidi anche su nostra pancia e questo è caffè verde e garsini a cambogia dopodiché la ragazza utilizzata for scolina ma non tutti insieme uno dopo l'altro più di sei mesi di trattamento ma prima o poi ci sono delle soluzioni per queste pancia allora mi sta scrivendo cosi mi carina devora buonasera sono entrata da poco e volevo sapere cose mi consigli per perdere la pancia se nel posto giusto devora stiamo parlando proprio di questa di questa pancia che da fastidio e stiamo parlando delle persone che stanno veramente cercando le soluzioni ma la soluzione è molto semplice ridurre lo stress dormire meglio ridurre le tossine c'è qualcuno mi ha detto aspetta sono allergica al nickel elisabetta prendi lo zeolite prendi lo zeolite tre cucchiaini al giorno per 60 giorni e ti aiuta a togliere i residui di nickel che potresti perché diventiamo allergici al nickel perché siamo intasati di nickel perché il nickel si trova dappertutto e io e purtroppo in tutto quello che mi piace per esempio spinaci lenticchie tantissime verdure hanno nickel e a quel punto e tantissimi legumi hanno nickel perché io mangio molto molto verdure ci intasiamo di nickel a quel punto cominciamo avere magari il problema delle riteme cominciamo avere problemi di nickel ma quando prendo zeolite aiuto a diminuire quel carico è assolutamente consigliato andiamo avanti perché voglio farvi anche ascoltare delle integratori perché turbo diet è un integratore molto potente che ci aiuta con la pancia perché voi mi state chiedendo questa pancia allora andiamo me la slim per la parete diciamo la parete del microbioma ci aiuta con la microbioma poi zeolite per desintossinare il corpo riducendo l'infiammazione nel corpo e aiutandoci proprio ad essere più concentrate la pelle migliore i capelli che crescono più in fretta perché il corpo libero un corpo come una macchina che appena stata portata dal meccanico che ha fatto la revisione funziona meglio quando siamo diciamo liberi dall'intasamento dei metalli pesanti e delle muffe e quant'altro zeolite ci aiuta a rombare quei motori allora dobbiamo ascoltare michele un uomo caffè verde e garsini e cambogia e vediamo che cosa è successo io ringrazio davvero hs 24 che prendo caffè verde sia di cambogia e garsini e cambogia e alla grande ho perso quasi 14 kg quasi da 4 mesi tranquillo proprio e poi ero un mancione non ho sentito niente però davvero un giovane di 25 anni davvero grazie mi sento un giovanotto gil funziona sì che funziona grazie grazie questi sono negli anni ho tanti 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 di queste testimonianze che persone che spontaneamente mi hanno chiamato per raccontare la loro storia a raccontare la loro la loro esperienza e abbiamo un'altra amica luisa a me la zeolite fa anche dormire bene ho sospeso per provare il resto dei prodotti cosa intendo non so se sto sbagliando però vuol dire che e dormo tranquilla con la zeolite vuol dire che non sta aggiungendo altri prodotti alla zeolite la zeolite gliele sta aiutando a migliorare questa qualità di sonno proprio active o proprio active adesso andiamo a parlare degli probiotici i probiotici probiotici che ci aiutano la flore batterica probiotici in questo caso il mio pro bio active fortifica microbioma e ci aiuta a vivere meglio ok più di sei miliardi di probiotici e lactobacilli e noi in questa proprio active vediamo che abbiamo questi questa dove c'è i ceppi di proprio active un notevole miglioramento nel placebo ok i ceppi di proprio active c'erano nel placebo non ci stanno ok non c'era stato nessun tipo di cambiamento perché i probiotici ci aiutano la flore batterica andiamo avanti aiuto riduzione di abdominali ok dolori abdominali il placebo anzi si sono aumentati i dolori abdominali sui riduzioni dei crampi abdominali ok qui placebo non è successo niente invece con proprio active c'è stato un miglioramento del diciamo dei ceppi e qua vedi qua qui placebo ops mi ha spostato ok oh no quando mi sposto devo rifare questo scusatemi ragazzi qua ok riduzione della stitichezza però notate qua questo è sessantesimo giorno 60 giorni e poi noti che comincia a riaprire a riazzare io vi ho sempre detto continuando a dire che come usiamo probiotici probiotici vanno usati ciclicamente e dobbiamo cambiare marca perché non c'è una scienza esatta ancora sui probiotici chi te la dice è un bugiardo l'unico modo per avere un un vero proprio come si chiama quadro della tua flora batterica intestinale sarebbe di fare un campionatura e un test ok proprio un test della tua feci per vedere com'è la tua microbioma ok detto lì ok se avete fatto il test un altro paio di maniche però venire da te dice ti serve solo questo proprio a proprio ottico sarebbe errato mio consiglio è di cambiare ci sono decine e decine di migliaia di ceppi nella nostra pancia e noi cambiamo ogni volta numero di ceppi la diverse tipologie di ceppi così ci permette di avere grandi risultati a livello del dello stress a livello del gonfiore della pancia a livello anche proprio di stare calmi perché ci anche ci aiuta a stare proprio calmi ma ascoltiamo adesso Laura che ci parla del pro bioattivo ho iniziato a usare i probiotici di GQ per circa un mese fa quando ho iniziato ad usarli ho sentito un benessere generale del mio corpo è migliorata tantissimo la qualità della pelle infatti è più luminosa più radiossa e vado anche più regolarmente al bagno ho acquistato più serizzato in calma e anche la qualità del fondo è migliore ho notato anche che ho perso un chilo da quando ho iniziato ad usarli e ho perso tre centimetri sui pianti allora lei sta parlando di grandi grandi risultati e adesso ho risposto comincio a rispondere alle vostre domande che ci sono tante domande non sapevo che vi... grazie Maria Angela che mi ha fatto queste domande della pancia piatta perché è una puntata volente questa vi state facendo tante domande allora Barbara mi chiede ciao Gil sono Barbara la pancia non va via facendo sport ho incominciato a prendere Metaboost posso abbinare Mela Slim grazie assolutamente sì Mela Slim è un grande coerivante io voglio farvi vedere aspetta devo andare a cercare ecco questo è Metaboost questo è Metaboost e noterete anche se purtroppo il braccio sta di fronte alla pancia c'è notevolmente riduzione della pancia ma anche della ritenzione idrica se vogliamo vedere Metaboost è day and night aiuta a aumentare il metabolismo aiuta il metabolic switch di notte perché ci aiuta ci concilia un bel sonno di sera che ci aiuta a dormire più profondamente che ci aiuta con il metabolismo e Metaboost è molto potente mi sta chiedendo Elisabetta un'altra Zeolite dove lo trovo lo trovi sul mio sito sul mio sito gilcooper.it se voi venite su live shopping sul mio sito lo potete vedere questo in tempo reale lo potreste cliccare sopra c'è tre righe dove ci sono tutti i prodotti che sto presentando in questa puntata e lo potete andare direttamente sulla pagina mentre ci sto parlando potete anche fare il vostro ordine in tempo reale mentre ci sto parlando è interattivo questa piattaforma molto divertente e vi posso anche rispondere dalla piattaforma che farò fra due secondi perché ho Marta che mi sta chiedendo allora chiudo questa dice fa bene per un ragazzo di 15 anni che ha un po' di pancette perché fa carlistenics allora zeolite è un minerale ovviamente quando un soggetto ha meno di 18 anni dovete parlare con il vostro medico generale ok però è un minerale è un disintossicante che lo prendiamo tre cucchiaini insieme mi sta chiedendo a Lisa tre cucchiaini di zeolite al giorno tutte una volta è polveroso è polveroso la mandiamo giù le facciamo tre cucchiaini da te al giorno per 60 giorni dopodiché possiamo ridurre un cucchiaino al giorno cucchiaini al giorno tre volte a settimana per mantenere mi sta scrivendo Marta Jill avevo un problema di pancia gonfia e meteorismo sto prendendo Pro Bioactive e Mela Slim e Stress Block va decisamente meglio grazie che bello Marta grazie tantissimo per la tua testimonianza lo rileggo per i nostri amici perché sono proprio tre prodotti che noi stiamo discutendo in questa puntata allora ciao G avevo problemi di pancia gonfia e meteorismo sto prendendo Pro Bioactive Mela Slim Stress Block e va decisamente meglio vedi abbiamo protetto la parete intestinale abbiamo aiutato a ridurre lo stress e a dormire meglio e Pro Bioactive aiuto a ripopolare la flora batterica del nostro intestino aiutandoci di avere grande aiuto allora Sirius mi sta dicendo ciao io ho molto molto agitato e nervoso con stitichezza e poi il problema qui e poi mi chiede che cosa contiene la zeolite la zeolite è un minerale si chiama zeolite perché zeolite è zeolite è come dire un'agata un'agata è una pietra lavica volcanica che viene ci sono miniere di zeolite che viene purificata poi polverizzata oltre fine per essere assorbito più facilmente e puro zeolite ci aiuta proprio a avere diciamo un miglioramento delle nostre diciamo disintossinazione allora mi sta scrivendo anche nostra amica Simona che mi dice carissima dopo due cicli di Metaboost tu cosa mi consigli di prendere Turbo Diet aspetta la scrivo qui e la ripeto carissima dopo due cicli di Metaboost tu cosa mi consigli di prendere Turbo Diet la risposta è sì perché noi dobbiamo sempre tenere il corpo su chi va là chi va là no faccio un ciclo di due quattro mesi di Metaboost interrompo perché interrompo perché i nostri aspetta voglio farvi vedere anche un'altra cosa su questi studi scientifici fammelo trovare questi sono Be Good ok vedi su tutti questi studi scientifici su ProBio andava molto bene fino al sessantesimo giorno e poi è cominciato a ritornare a non fare più a petto perché una volta che anche qui 60 giorni vedi su tutti dopo il sessantesimo giorno è come se il tuo microbioma dice stop ho dato ok abbastanza dammi un'altra cosa dammi un altro pianone e noi dobbiamo in gergo diciamo tecnica si chiama wash out vuol dire dopo che ho preso i benefici massimali di quell'integratore o crema o allenamento addirittura cambiamo per dare un nuovo input al corpo così assolutamente dopo due cicli di Metaboost puoi cominciare con il nostro zeolite eh scusami zeolite Turbo Diet Paola mi dice Gil abbinare zeolite e Curcumax assolutamente sì perché adesso andiamo a parlare di Curcumax ma prima di fare il Curcumax perdonatemi voglio parlare di Enzimax perché stavamo parlando di ProBioactive stiamo parlando del microbioma che cos'è Enzimax Enzimax è un prodotto che abbina ehm abbina ehm abbina enzimi digestivi che devono essere presenti per aiutarti a digerire diverse eh sostanze nel vostro corpo più prebiotico una fibra prebiotico che nutre i probiotici la fibra che noi assorbiamo magari nelle fiocche di avena che è una fibra solubile altamente positivo per il cuore per la salute del nostro sistema cardiocircolatorio è una fibra che noi non assimiliamo non ha calorie per noi ma nutre il nostro microbioma e il nostro microbioma è importantissimo per tutto per l'infiammazione per produrre serotonina per aiutarci con la pelle per aiutarci calmarci per aiutare il nostro sistema immunitario per aiutarci ok con il metabolismo adesso ascoltiamo nostra una ragazza che si chiama Sara che ha fatto Yes I can e poi le co ha diversi problemi con intolleranze e vediamo come si è trovato con Enzimax io sono intollerante al lattosio e leggermente al glutine perciò ho difficoltà nella digestione con Enzimax ho notato che riesco a dormire bene perché digerisco velocemente quello che mangio nel senso non mi rimane sullo stomaco e non ho problemi poi quando vado a dormire da quando prendo Enzimax non ho avuto più problemi di digestione perciò non ho avuto più quelli battiti oppure nause che mi preoccupavano precedentemente e questo è molto importante perché stiamo sempre parlando di salute scusami che sto cercando un'altra persona che mi parla su Curcumax non lo trovando ma nel frattempo la nostra amica Paola mi ha detto Zeolite Curcumax allora Zeolite che è lante spugna che cattura metalli pesanti e altre sostanze nocivi al corpo e le porte via del corpo per essere eliminati Curcumax invece è un protettore epatico ci aiuta le nostre funzioni epatiche che sono molto importanti per vivere bene e non solo ci sono sul Curcuma diversi studi anche che aiutano la salute del cervello neurogenesi una precauzione diciamo una prevenzione per un accumulo di amaloide ebete che potrebbe portare alzheimer in una tarda età insomma Curcumax è considerato talmente potente che hanno provato di brevettarlo delle case farmaceutici ma non puoi brevettare una spezia però c'è spezia poi c'è integratore questi sono i claims ministeriali che mi permette il ministero della salute a elencare delle benefici di Curcumax ma Curcumax che cos'è? è curcuma titolato al 95% di curcuminoidi è quasi puro un quasi estratto puro della parte della pianta che ci dà questi risultati funzioni epatiche per aiutare il fegato che fa ovviamente parte del sistema digerente e il fegato è quello che decide quanto bruciamo grassi e quanto depositiamo in grassi così è molto importante il fegato grasso antiossedante funzioni digestive ritorniamo sul nostro microbioma funzione articolare riduce l'infiammazione articolare per le mie amiche in menopausa che stanno soffrendo di dolore articolare ci aiuta a contrastare i disturbi del ciclo eccellente sia per chi è in età fertile ma anche per chi è in età di menopausa perché sono molto legati i problemi pepe nero che aumenta la biodisponibilità della curcuma pari al 2000% aiuta funzioni digestive motilità intestinale riduzione del gas antiossedante regolarità del transito intestinale ricordate che la pancia sarà gonfio se non c'è una regolarità intestinale se sono stitica io direi di prendere il curcuma se me la slim e zeolite insieme top top veramente vivrete meglio poi zenzero lo zenzero titolato il 10% di gingeroli pepe nero è titolato il 98% della piperina funzioni digestive anti-nausea anti-nausea scioglilingua poi apparato cardiovascolare funzionalità articolare normale circolazione del sangue pensate quanto è importante per un fisico che funziona bene e poi contrastando stati di tensione localizzati anti-infiammatorio motilità intestinale riduzione del gas contrastando disturbi del ciclo cominciate a vedere come noi veramente possiamo prendere tantissimi saluto Roberta da Torino che mi sta scrivendo Roberta da Torino ciao Roberta quanti sono diciamo le opportunità di aiutare questa pancia a migliorare io velocemente vado su perché voglio farvi vedere questa è me la slim guardate come cioè come la pancia è migliorato come l'adipe come l'adipe qua come l'adipe è migliorato cioè è dimezzata questa ragazza come la pancia è molto molto più ristretta ma secondo me ripeto quando noi vediamo un corpo ingolfato non è dovete o dovreste smettere di pensare all'aspetto fisico fisico voglio essere pancia piatta perché vuoi essere bella no noi vogliamo essere in salute tu puoi anche essere magro ma puoi essere intesato di mentali pesanti zeolite bomba zeolite specialmente durante questo periodo che è le diciamo periodo delle allergie no perché ci sono smog polveri sottili e questo ci aiuta comunque l'organismo a spella lì in più con più facilità allora inizio a vedere ora la diretta mi sta scrivendo e l'aria ciao e l'aria inizio a vedere ora la diretta ero su now a fare super jump zeolite va bene per disintossicare l'organismo assolutamente sì assolutamente sì cioè nel senso ombre di dubbio perché a me piace avere la soluzione cioè quando una persona dice ti devi disintossinare secondo me non è a fare la dieta soltanto di frullati cioè per carità va bene ma questo è un chellante utilizzato cioè leggete i benefici del zeolite online e vedrete che lo usano per disintossinare i ambienti proprio nell'acqua io non conosco i prodotti come da come faccio a vederli vorrei provare quelle pelle vene quelle pelle vene si chiama farmavan Daniela e lo trovi tutto sul mio sito o mi potete ricordate scrivermi in due mondi cioè quando voi non conoscete i miei prodotti li trovate tutti qui su gcooper.it o mi potete scrivere aspettami lo trovo lo trovo qui in pochiocciolo gcooper.it oggi non ho risposto all'email perché stavo facendo una cosa in radio però info chiocciolo gcooper.it o ci potete scrivere su whatsapp più 34 633 7 1 1 2 6 3 però memorizzate il nostro numero perché altrimenti magari quando vi mandiamo dei video o delle offerte se non siamo memorizzati nel vostro whatsapp non ricevete il messaggio questa è una cosa molto importante ritorno per fantastico la curcuma allora Elisabetta dice la curcuma la uso come infuso ma quello che tu stai dicendo mi fa capire che forse non funzioni come curcuma no perché la curcuma che noi compriamo anche se è biologico anche di provenienza biologica la spezia ha soltanto 3% di curcuminoidi mio curcuma è un integratore e anche il colore è diverso della spezia se tu prendi una capsula di curcuma l'apri è giallissimo perché 95% di estratto secco delle curcuminoidi che è quello che dà il colore giallo alla pianta ok vedi che la la curcuma normale è leggermente più maroncino non tanto ma vedi proprio le differenze occhio nudo e poi l'altro problema della curcuma è non è biodisponibile ecco perché si vede il curry gli indiani mettono il curry che è un miscuglio che c'è anche la curcuma ma c'è il pepe dentro il curry perché aumenta la biodisponibilità della curcuma stessa pari a 2000% due zero 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 per cento perché se il prodotto non l'assorbe perché non è biodisponibile il rischio è non l'assorbo e mi passa nel corpo senza darmi tutti quelli effetti benefici così il mio consiglio è per carità il curcuma è buono buono pollo alla curcuma il risotto con gamberi e curry sempre molto buono però per integrarci usiamo integratori l'altro problema di curcuma non lo posso mettere sotto lingua perché essendo gialla mi stingerebbe i denti invece in un capsula mando giù e non stingo le denti allora ciao gill io la prendo la zeolite e come ti trovi Maria Galietta Maria come ti trovi con la zeolite perché io mi trovo benissimo mi sto proprio cambiando anche in modo che dormo i capelli mi stanno crescendo molto più velocemente e e non sto usando i triconelli in questo momento per quanto mi stanno crescendo i capelli perché poi devo rifare la crescita e per carità non posso stare ogni settimana dal mio parrucchiere ok queste cose possiamo scriviti è una cosa fantastica grazie di cuore grazie a te Elisabetta che hai apprezzato la mia diciamo la mia volontà di rispondervi tutti perché da donna a donna da essere umano a essere umano perché ci sono anche uomini la fuori a volte noi ci troviamo eh con difficoltà e non riusciamo a risolvere queste difficoltà poi ci sentiamo un po' soli ed è non è bello eh assolutamente a sentirsi soli allora mi sta scrivendo eh Mariangela eccoci qua ciao gill ciao gill peccato che non ti posso seguire sono al lavoro dopo me la rivedo me la rivedo grazie a un bacione tutta questa puntata è dedicata a Mariangela perché la mia scritta lei dice mi potresti parlare della pancia piatta è stata fatta Mariangela spero che tu la apprezzi e certamente la puoi rivedere tutte le puntate ehm tutte tutte queste puntate in secondo momento perché rimangono online e possono essere rivisti dove gilcooper.it live shopping Liana mi scriva ciao gill e per la maniglia dell'amore va bene il caffè verde sì Liana va bene sia il caffè verde che la nostra garsini a Cambogia per questo consiglio Turbo Diet Power e questo ci aiuta avere grandi risultati e vi faccio sentire un'altra testimonianza perché è due sia il caffè verde sia il garsini a Cambogia funzionano ma funzionano ancora meglio insieme quando li prendi tutti e due insieme fammi vedere se riesco a trovare la mia amica che parla Turbo Diet eccoci qua uno che parla proprio di Turbo Diet così sentite le due cose insieme ascoltate uso il caffè verde la Cambogia però ho perso 12 chili sì io li uso per il mantenimento e quando il corpo mi trattiene i liquidi avendo problemi anche delle vene interne trovo che la maniera migliore per stare in linea in equilibrio col corpo e tutto il resto io ho un anno che li sto usando avevo sempre la come è che si dice la plena del peso di quei due o tre chili e trattengo meno liquidi rispetto a prima ho integrato proprio il mio corpo il mio sistema di funzionamento a livello di intestino tutto e mi era diventato perfino pigro l'intestino ok avete sentito queste sono le soluzioni per un pancia più piatta perché l'allenamento è fondamentale ma abbiamo sentito anche persone dicendo nonostante l'allenamento non ho la pancia piatta abbiamo sentito persone che hanno detto faccio la dieta perfetta ma ho la pancetta io sono penso che veramente legato più allo stress ok stress ci rende l'intestino impoverito può creare dispiosi del microbioma che può essere anche legato a un problema della porosità intestinale e questo può poi alla fine darci una noia a livello intestinale vi invito di fare un detox serio con zeolite perché è qualcosa e fate anche le vostre ricerche se volete perché è un prodotto estremamente valido per aiutarci a disintossinare mela slim per aiutarci la parete intestinale curcumax per aiutarci il fegato enzimax per aiutarci il parato digerente digerire meglio per alleggerire questo intestino alleggerire il transito intestinale e poi se vogliamo un kit per il nostro metabolismo aiutarci con la linea turbo diet messi insieme tanti prodotti per darvi risultati scrivetemi se avete domande vi ringrazio per la vostra attenzione vi aspetto al momento ogni lunedì mercoledì e venerdì per le nostre live ma se vi piacciono queste live fatemelo sapere e io posso anche programmare altri la cosa importante è farmi sapere quello che volete affrontare come teme quante volte mi volete vedere ecco che ora che ora vi piace essere che in questi diretti è meglio le 18 è meglio la mattina fatemi sapere perché voglio sapere da voi che cosa serve per aiutarvi a vivere meglio pace dalla Jill e passate una serata montata non